operativo, operativo da gamma 14 avanti gamma 14 gamma 14 avanti è giunto via Brigate Bisagne allora gamma 14 se vai su Corso Buenos Aires vediamo dei cassonetti messi di traverso aspetta aspetta gamma 84 dalla Roma Monza 040 allora gamma 14 avvicinati verso lo Star Hotel all'altezza di Buenos Aires cambio operativo ricevuto ci attestiamo all'altezza dello Star Hotel squadre autisti della Roma Barisette delle squadre con Roma Barisette tenete con i mezzi in via Casaregis angolo via Trezibonda cercate sulla cartina via Casaregis angolo via Trezibonda la Roma Polonia che parla l'altezza è l'altezza l'altezza è l'altezza Roma Bologna 7 Roma Reparto di Bologna Roma Bologna 7 Roma Bologna 7 questa domenica la cerchiamo dottore dov'è? gamma 3 gamma 3 dal centro cercate di lasciare un varco di aprire un varco per far riprendere il passaggio del corteo se è possibile cercate di aprire un varco per consentire la ripresa del transito del corteo se è possibile prova blanche blanche eheh b gamma 3 gamma 3 dammi ricevuto gamma 3 operativo per la gamma 3 che in ascolto allora se è possibile gamma 3 aprite un barco per consentire il transito, la ripresa del transito del corteo allora operativo io sono gamma 3, il barco è aperto, sono i manifestanti avanti ancora, io qui non ho solo i manifestanti, solo i figli di puttana ammazzali operativo una gamma 75 allora un attimo solo, un attimo di attenzione, i contingenti che sono in via Casa Regis si allargassero, si allargassero per consentire il transito del corteo pacifico ripeto, i contingenti di Casa Regis si allargassero per consentire il passaggio del corteo delle persone pacifiche, cambio gamma 62 hai ricevuto? operativo da gamma 75, cambio avanti la gamma 75 unitamente al reparto mobili di Napoli, 100 unità, in Corso Torino sta fronteggiando i manifestanti, Corso Torino, Angolo, Corso Bonasares, in questo momento stiamo indietreggiando, ce l'abbiamo a circa 100 metri, cambio ma sono manifestanti autonomi, anarchici o manifestanti pacifici, cambio e allora perché indietreggiamo se sono anarchici, attacchiamo, facciamo dei fermati, dobbiamo attaccare, cambio l'appi, l'appi, l'appi allora gamma 75 hai un esercito alle spalle, un esercito gamma 75 hai ricevuto? gamma 14, gamma 14 dal centro gamma 14, gamma 14 dal centro avanti, avanti gamma 14 vai in Corso Buenos Aires a dare manforte a gamma 75, ci sono gli anarchici che possiamo tranquillamente schiacciare, cambio con urgenza gamma 14, li potremmo proprio bloccare, mi raccomando, dammili ricevuto riscevuto ci stiamo portando, siamo alla prima fila dei gasconetti, è l'oltezza della avanti Roberto, in Genova, avanti, 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 per favore, avanti gamma 3, gamma 3 da centro avanti, avanti, apriti con la forza e fai passare il corteo, apri un varco, fai passare il corteo guarda che il varco c'è qui da casa Regis, c'è il varco, non passa perché ci sono quelli avanti guarda che i fai passare il corteo, avanti, 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 avanti.